Qual è la situazione del campo sportivo Cantelmo qui a Vairano-Patenora? Il 2020 sono passati sei anni ma la situazione è rimasta immariata. C'è stato solo un susseguirsi di libere fino ad arrivare a un atto preliminare tra il Comune e la Curia di Teano ma come si può vedere la situazione sta che il campo sportivo è abbandonato e attualmente come ben sappiamo non esistono squadre di Vairano-Centro. Perché giustamente il Presidente Reca per altre questioni come abbiamo già detto durante l'estate ma soprattutto per la questione del campo sportivo è dovuto andare via ovviamente con il titolo e con tutto il resto. Rimane questa situazione un po' imbarazzante in quanto ripeto attualmente c'è solo un atto preliminare tra il Comune e la Curia però l'atto notarile ad oggi non è stato fatto. Quindi questo terreno di gioco rimane ancora di proprietà della Curia e anche se il Sindaco Cantelmo sembra che ha rinunciato quindi a questo punto al contratto di fritto che era intestato a lui o qualcun altro, non ricordo bene, della sua famiglia. Però rimane una domanda che vorrei fare e colgo l'occasione per fare la Sindaco che la faccio attraverso le telecamere e attraverso questa intervista. Una volta che, speriamo a breve, aspettando il prossimo mandato del prossimo Sindaco e la prossima promessa elettorale, speriamo che si farà subito quest'atto notarile. Il punto è che la striscia dove attualmente sono le panchine, che non è di proprietà della Curia ma fu concessa in affitto da un nostro campesano che purtroppo oggi non c'è più, è parte integrante del campo, non si può fare almeno di quella striscia di terreno. Come si farà? Significa che il Comune dovrà acquisire, dovrà comprare quella parte di terreno, altrimenti dovrà rinunciare, quindi si dovrà rientrare con quella striscia di terreno all'interno, le panchine e quindi ritornerà tutto come prima, non un campo regolamentare a tutti gli effetti che potrà ospitare anche squadre di eccellenza, ma un campo da calcio per far divertire giovani e bambini. Quindi, dico io, il Comune oggi non ha la possibilità economica di andare a stipulare l'atto notarile, quindi l'indomani non avrà neanche i soldi per acquistare quella striscia di terreno. In più vorrei capire come o il Comune o il privato, perché si vocifera che si vorrà fare un bando, ma un bando che già va verso una direzione, verso un privato, come farà quel privato a chiedere finanziamenti pubblici una volta se quella parte di terreno rimane ancora di proprietà privata, che oggi, ripeto ancora una volta, è infitto, è fitto, se non ricordo male è intestato al dottor Bartolomeo Comende, attualmente ancora sindaco. Un altro problema è nato in questi giorni. L'unica squadra, l'unica società gialloverde, vairanese, contando di logo del Comune di Vairano, quindi il lupo, era questa neonascente società, Vairano Calcio, se non ricordo male, guidata dai giovani di Vairano, Raimondo di Monaco, Luca Geremia, Luca Daniele, non so chi altro, adesso non ricordo, e comunque si sono impegnati già da tempo a garantire ai genitori di Vairano, e non solo, perché anche da Roccomonvino vengono a fare la scuola calcio a Vairano, si erano impegnati e quindi avevano chiesto di usufruire di questi campi sportivi. Tanto è vero che c'è ancora l'irrigatore, si erano impegnati a riprendere questo terreno di gioco, perché fino a qualche mese fa era bruciatissimo, non c'era neanche una chiazza di verde, loro a proprie spiese, sottrendo tempo a questioni personali, sono venuti qui e hanno il ricato. Dopo qualche giorno hanno richiamato ovviamente il sindaco, dicendo che il giorno 7, se non sbaglio, avrebbero iniziato la scuola calcio e alla fine gli è stato praticamente negato il campo e sono dovuti andare altrove a fare scuola calcio, cioè praticamente Vairano-Patenor, Vairano-Centro ha perso anche la scuola calcio che contava circa 100 bambini. Questa è una vergogna, è una vergogna. Vairano sta morendo in tutti i sensi, dal livello sportivo a tutto il resto che oggi non voglio citare. Quindi l'appello mio che faccio al senso è quello di ripensare alla scelta di non dare il campo alla scuola calcio gestita dalle persone che ho citato prima, in quanto altrimenti queste sono costrette ad andare fuori, come è stato costretto il presidente Luigi Rega, che è andato a fare la fusione con Piedi Montematese, che a suo dire era l'unico campo possibile. E quindi al momento sembra che la scuola calcio verrà fatta sul campo di calcetto di proprietà della chiesa di Verano-Scale, della parrocchia di Verano-Scale. Stanno in giro per i comuni limitrofi alla ricerca di un campo sportivo che possa ospitare soprattutto i più grandi. Quindi questa è una vergogna tutta vairanese, che continua anno per anno a diventare sempre più sconvolgente, una cosa che io veramente non sopporto e non concepisco il perché di tutto questo. Secondo il mio modesto parere, anche dalle cose che mi hanno detto all'ultima riunione che si è tenuta con le varie società, tra cui una che non è una società vairanese, questa si va verso una gestione privata, ma scegliendo il privato. Praticamente sembra che si vuole cucire addosso a questo privato anche il bando. E già abbiamo una situazione che è quella di Verano-Scale, con la tenso struttura, il pala Morelli, che già è gestito da una vita, lì non si può fare nient'altro se non la va all'avvolo. È vero che ci sono stati a volte atti vandalici e quant'altro, però se uno viene a chiedere se la posso utilizzare per fare una cosa, sembra che stai là a chiedere le lemosi dal privato quando parliamo di una struttura che è pubblica. Quindi cerchiamo di tenere sempre bene in testa, in mente che qua parliamo di bene pubblico, di bene comune e tale deve rimanere. Questo è quello che avevo da dire.